Io sono un po' emozionato come capite, perché sono qui per dire che Ross è stato davvero un grande onore, non è stato messo a faccia dal Partito Democratico e dall'Europa, e lui si è notato in atto comune per le forze politiche. Ora, è un passo importante per me candidati, io ho sempre giusto la mia attività come tecnico. La politica si intende di fondere idee a rossa che ho fatto con l'Istituto, e gli candidati chiaramente capite che qualcosa è diverso. Perché lo faccio? Lo faccio perché le prossime elezioni sono probabilmente le più importanti che avvieramo e che forcerremo per parecchi anni. Si comportano due elezioni del mondo diverse, una conventista e una conservatrice, e dalle le elezioni.